Musica Sai che diceva un grande presentatore? Diceva la numero 3 Chi è? Ah bravo Grazie Il compianto Ma si fa non aveva bisogno del suggerimento Adesso subito tu Vuoi vestire la donna e vieni qua che ti intervisto? Allora senti un po' Arrivi da? Trieste Trieste Non l'hai detto male Perché sbagliando avessi potuto dire? Trieste No no Hai detto Trieste Non era male Senti un po' Che fai nella vita? Studio Studi cosa? Università o liceo? Liceo Cioè Galvani Ah Galvani Ma sei giovane ancora? Quanti anni hai? 17 Ah 17 anni Come ti è saltato in testa ad essere qua stasera? Sono curioso Eh mi hanno contattato su Facebook Ah e ti hanno detto bene che hai qualche caratteristica buona Ecco perché dovete sapere che nella sua idea Giori Venti Non cerca la donna perfetta Perché anche se una ragazza non è fisicamente perfettissima può avere uno sguardo Un viso interessante quindi anche se non sfiderà e non farà una modella potrà fare del cinema Ma potrà fare tante altre cose Quindi non limitiamo mai il concorso alla semplice bellezza statuaria Ma cerchiamo di vedere anche come la ragazza come la sua simpatia come anche la sua intelligenza se possibile Come il suo sguardo Ecco tante piccole caratteristiche Adesso io ti lascio E mi raccomando Quando lo dico anche alle altre ragazze che devono ancora venire su questo palco che non c'è Però immaginiamo un palco Cercate sempre quando l'obiettivo vi inquadra State serene Cercate di essere voi stesse Perché qualche volta succede che l'emozione vi fa venire una sorta di terrore ripinto negli occhi Ciò non deve essere Prendetela come un gioco State rilassate Sorridete Soprattutto sorridete Ecco non state imbronciate Divertitevi E' un gioco e solo questo può portare bene Vediamo se hai seguito i miei consigli Vai A posto? Grazie Eccola qua A te è un passo spedito Con vista In moto A te è un passo spedito E' un passo spedito E' un passo spedito E' un passo spedito Grazie a tutti. Grazie a tutti.